Le scorse settimane un fornitore che lavora per conto di SDA ha dichiarato con una procedura di licenziamento collettivo un esubero di personale. Il motivo dell'esubero è un calo dei volumi di merci. In realtà noi sappiamo che le merci non sono calate perché ce n'è meno, ma sono calate semplicemente perché poste, proprio perché ha quattro società su cui lavorare, sposta i volumi da una parte all'altra come più ritiene per strategie interne sue e questo genera rischi di occupazione per il personale. Da questa apertura di licenziamento collettivo si rischiava che le aperture fossero anche su altre aziende che lavorano sempre per SDA. Da lì è partita l'avvertenza. Le organizzazioni sindacali devono mettere al sicuro il lavoro anche quando si fanno le manifestazioni. Perché noi possiamo parlare di sicurezza nel luogo di lavoro e ci preoccupiamo della sicurezza nel luogo di lavoro come è giusto che faccia il sindacato. Dobbiamo preoccuparci della sicurezza anche quando facciamo sindacato. Della sicurezza dei nostri lavoratori, di quelli che noi rappresentiamo. In questo senso noi siamo contrari alla deriva che ha preso. Anche perché quell'azione ancora poco chiara, non si è capito quali erano le intenzioni della sigla sindacale che l'ha causata, ha generato tensione e preoccupazione anche in altri lavoratori, che erano per esempio quelli che erano nella sede di Via Europa 190 dove sono entrati bruscamente, non so per quale intento. Probabilmente un'autocritica dovrebbe essere fatta anche da parte della stampa. Il giorno prima che il presidio era pacifico, nessun organo di stampa o giornale ha parlato dell'evento del problema occupazionale. Quindi che cosa stiamo mandando anche come messaggio? Che deve esserci l'evento luttuoso oppure deve esserci l'evento violento per avere l'attenzione da parte dei media sulle questioni del lavoro? Quali saranno i prossimi passi? Noi la sera stessa del 5 abbiamo firmato presso l'associazione datoriale che si è fatta parte anche di rappresentare SDA, quindi la Fedit, un accordo che garantisce i livelli occupazionali in tutto il perimetro del Lazio, nelle tre filiali di SDA su Roma, da qui fino alla fine del 2023. Il passo successivo è quello di sollecitare nuovamente un incontro alla proprietà. Quindi noi cercheremo in tutti i modi, anche attraverso la Confederazione, di aprire un tavolo e di avere un confronto con poste che è la vera proprietaria di questa rete di distribuzione che si fanno concorrenza fra di loro sui volumi di attività.